Voglio dare una presentazione per il seminario che farò per il corso riguarda Discernere i tempi, focus sull'Apocolisso. Io voglio trattare il grande mandato, a che punto siamo. Qualcuno potrebbe chiedersi ma che importanza potrebbe avere quando stiamo considerando gli ultimi eventi e il ritorno del Signore. Ma è molto importante e vedrete perché. Quindi sarà una passeggiata insieme attraverso sia le scritture ma anche le statistiche mondiali ed anche la statistica riguardo l'Italia. Sarà anche una considerazione di ciò che rimane da fare e quello che tutti noi possiamo e dobbiamo fare. Quindi voglio invitarvi, credo che questo seminario sarà una parte integrale di tutti i seminari che faremo in questo corso, molto importante, molto attuale, attenente a tante discussioni che sono in corso nella Chiesa in Italia ma anche all'estero riguardo gli eventi che viviamo e quello che significano. Quindi voglio invitarvi di partecipare a tutto il corso e di ricevere queste benedizioni ed anche quello che il Signore potrà dirti personalmente riguardo a quello che Lui ti dà da fare per il suo regno. Il Signore vi benedica. Ci vediamo nel corso.